Inizio pulendo una mela, rimuovo la buccia, elimino il tozzolo e taglio a fettine non troppo sottili. Metto da parte, mi serviranno a breve. Ho sfruttolato la pasta sfoglia del formato rettangolare, stendo la crema pasticcera aiutandomi con la spatola. Sistemo le fette di mela a ricoprire la superficie. E ora ricopro con l'uvetta sultanina, a sentimento. Quindi arrotolo la sfoglia su se stessa partendo dal lato più lungo, ottengo un rotolo. Sistemo le fette di mela, rimuovo la superficie. Lascio riposare per 10 minuti nel freezer. Trascorso il tempo di riposo, con l'aiuto di un coltello a lama liscia e ben affilato, divido a metà. Poi ritaglio delle girelle, larghe circa 4-5 cm. Sistemo in modo distanziato sulla teglia da forno, coperta con carta forno. Lascio cuocere in forno già caldo e statico a 190 gradi per circa 20 minuti. O lasciate intiepidire le girelle di sfoglia con mele, crema pasticcera e uvetta, spolvero di zucchero a velo. Mie carissimi amici, sono molto sfiziose e si preparano davvero in pochissimo tempo. Queste girelle di pasta sfoglia con mele, crema pasticcera e uvetta sono davvero semplici da fare. Ottima colazione o per la merenda. Queste girelle andranno a ruba e vi toccherà fare il bis. Grazie a tutti.